Dopo il successo sul campo della capolista Lanusei, l'Avellino è condannato a continuare a vincere per la sua disperata rincorsa al primato del girone G di Serie D. Al partenio Lombardi c'è il Flaminia del tecnico Marco Schenardi. Buccaro conferma il 4-3-3 ma opera un ampio turnover. Il primo tempo su Porifero è tutto in due azioni. Al ventitresimo Lobby in area di Parisi, il portiere Vitali esce a vuoto, Devena l'anticipa di testa, ma non trova lo specchio della porta. Al trentaduesimo destro alto sulla traversa di Matute, si va al riposo sullo 0-0, Lupi impalpabili in zona d'attacco. In avvio di ripresa dentro Tribuzzi e Dadalt, fuori Carbonelli e Pepe, Lupi col 4-2-4, con Alfageme sacrificato fino ad allora sulla fascia destra a comporre il tandem d'attacco con Devena. La musica non cambia fino agli ultimi 20 minuti di gioco. Al settantesimo Alfageme riceve Dadalt, fa secco con il controllo il diretto marcatore e calcia. Vitali respinge sui piedi dell'argentino, che non ne approfitta, spedendo in curva sudda. L'episodio che decide la partita arriva sei minuti più tardi. Cross di Dadalt respinge la difesa del Flaminia, Matute calcia con tutta la forza che ha, piegando le mani a Vitali, non impeccabile e colto in controtempo. Il secondo gol in bianco-verde del Camerunense basta per portare a casa i tre punti, non per ridurre lo svantaggio dal primo posto, con Bernardotto a firmare il blitz della Nusea Fragene contro l'Atletico. E nel finale brividi per i 3.000 spettatori sugli spalti, con Betti che salva sulla linea, ben oltre il novantesimo. Domenica prossima Sasserilatte Dolce Avellino. I Sardis, confitti a Colleferro dal città di Anagni col finale di 1-0, hanno ora un solo punto di vantaggio sui Lupi, che restano quarti per effetto del concomitante successo per 2-0 del Trastevere sul campo della Lupa Roma.